Ehi, solo per avvisarvi che su MyProtein c'è il 40% di sconto, questo significa che se avete un carrello da 80€ inserito al codice sgarra riceverete 31€ di sconto, che è un botto Ma ragazzi, è finalmente arrivato l'inverno a Milano, finalmente posso usare il colbacco senza provare calore Amici miei, benvenuti in questa nuovissima meme review Oggi, amici miei, siamo qui perché è un giorno speciale Il subreddit ha raggiunto i 125.000 rifugiati su Instagram Stiamo mettendo la sezione meme di merda, vedete tutta la spazzatura che mettete in modo tale da fare un episodio a parte sullo schifo che troviamo nel subreddit Ma oggi, solo hot e top della settimana Sono stato convincente ragazzi Cediamo e non perdiamoci in bazzeccole e frottole Nessuno, proprio nessuno, io che gioco a Rocket League, visualizza Autoblu Ma no, no, non fate tornare in meta Autoblu Per favore, non fatelo, vi prego mematori Un'altra vita di un giovane attore rovinato dall'alcol e dalla droga Sono completamente annichilito Quando sei anni i tuoi genitori e tua sorella salivano a casa con l'ascensore ma tu salivi da solo sulle scale, così che si diventa uomini Quando il film è sugli Avengers arriva ai titoli di goda e tu ti prepari a uscire dalla sala Sta lì, usa falso finale No ragazzi, questa roba mi mette una tristezza incredibile Vi giuro che in Avengers Endgame io avevo pianto durante il finale No, no, questo ragazzi va in AppVot e va anche in Approved Non ti metto il Golden Content ma questo me fa provare delle grandissime emozioni Mangia il pollo con le mani, mia mamma non si fa così, sei un maiale Mi non ho venuto che stava ascoltando la conversazione, che te ne pare? Che sensazione ti dà essere un dio? Quando ti accorgi che la donna con cui stai lalando non hai il pollice oppure No buono, no buono Quando in vacanza in hotel chiedi la password per accedere al wifi gratis Non credo fosse una buona idea chiedere No, usate i vostri dati ragazzi, perché è più il tempo che ci mettete per leggere sta cazzo le password Quando tu andi a casa alla scuola con una fame da lupi e tua madre ti fa trovare un piatto di minestra a tavola Arrivavi a casa alle 5 di poverino e stavi morendo di fame Con tutto il rispetto per la pasta e fagioli che è buonissima Ma alle 5 o alle... io non posso mangiare la pasta e fagioli Nonna, non posso mangiare la pasta e fagioli Non potevo Quando tu andi a casa ma trovi i tuoi tre figli correre in giro con le tue mazze da golf E la babysitter che piange chiusa dentro il bagno Non si preoccupi Dolores Questo bebe Fa schifo L'ho provato lo stesso perché mi fa ridere la faccia di questa signora Mantelle visibili di Harry Potter 15.000 euro Vicino a Molise Italia Il momento di 10 anni che è la carta di credito del papà Ma è un best buy Nessuno Mia madre dopo aver scoperto che ho donato 750 euro a uno streamer Il protocollo è... Cold and call No ragazzi Allora, allora, allora E' partito questo meme dopo che è stata rinviata O comunque è stata annullata la partita Juve Napoli Cosa è successo? Ok, signor Agnelli Che ha detto la frase Il protocollo è chiaro Da quel momento meme sul protocollo è chiaro Più demongasso Prof, ma perché non hai fatto il retro della verifica? Io Golden Contold Io e il mio bro Quando abbiamo tre tasche in electrical Certezza di morte Scarsa probabilità di successo Che cosa ci aspettiamo? Quando sei in classe e stai pensando a dei meme con il template disegnato Ma poi scoprono che non l'hai fatto tu Crewmate There's one imposter Nessuno Assolutamente nessuno La situazione è di memesita Ora, vediamo che è successo Marco Polonio Crusollo Ah, c'è una guerra tra Godmimer Vediamo chi è il super senale Credo che sia il signor Vediamo se è davvero lui Vediamo se è lui Colom Lo sapevo Quando per sbaglio tua zia entra in bagno e ti vede mentre stai entrando in doccia Ok, il ragazzino è cresciuto E si mette a farla lavatrice E cade Su Reddit tutti insultano il 2009 Chi è nato il 31 dicembre 2008 Spezzo un carro armato a favore del 2009 Sappiate, scade il 2009 Che l'anno prossimo si prenderanno per il 2010 E così si andrà avanti così Rof, mi servono ragazzi forti per spostare il banco Me and the boys a 7 anni Ma io vi sfido Se non ci fosse stata nessuna ragazza nella vostra classe Avreste fatto la stessa cosa? Io no Io dico Hey Google sottovoce Tutti gli assistenti Google dei telefoni presenti a meno di un chilometro da me Ecco cos'ho trovato su Google In questo momento vi si è aperto Quando la signora in metro che chiede le limosine a stare sul treno tutti i giorni con un bambino Perché le cantine di Don Gino si sono aperte Quando ha 57 anni scopri che l'Islanda non è vicino a Padua La realtà è spesso deludente Amici miei, ma i limoni I limoni Dove trovi foto di gatti? Io su Google Rof, allora perché è scritto nei watermark di Meme Sita? Perchettissimi Quando all'elementare scambiavi un ringo con 5 patatine Business is booming Settembre finisce Meme su Halloween e su BM che fanno dolcetto o scarsetto Spooks Lo spooktober è iniziato Io che disattivo la modalità notte di Reddy dopo 3 Che poi in realtà non è che per forza se i Meme hanno 50 voto e non sono Golden Call Ragazzi questa base è bellissima Sneak check Elusione Livello un miliardo Quando mi siedo sulle gambe di Crash e lì sotto sento qualcosa alzarsi Abbattuta nominando Pierino, cacca e pepì I miei cuginetti di 7 anni Sto ridendo assai Quando sei un fattorino della pizza e una milf ti chiede se può pagare in altro modo Ma invece di spogliarsi tira fuori di tasca un assegno Quando sei al supermercato con tua madre e lei a un certo punto incontra una sua amica di vecchia data Benissimo Passano gli anni Gli anni passano Quel momento in cui ti metti a fare il conto alla rovescia davanti al semaforo per farlo diventare verde ma al termine non lo diventa Non che mi aspettassi molto ma francamente mi hai deluso Casualmente tutti i rossi li prendo io in macchina Reddit viene creato nel 2005 Meme prima Se ti dicesi che Hit è stato il primo in posto ad entrare in una venta Prof scrivete il vostro nome sulla verifica se volete potete accorciarlo Penelope e Figaro Quando nell'interrogazione di fisica la prof ti chiede che cos'è la forza di gravità E tu rispondi clima temperato ma la prof ti mette comunque due Era stato tutto collaudato nei minimi dettagli come è potuto succedere Perché è la stessa risposta delle barbabietre da Zucker Quelle geografie in fisica clima temperato non esiste Era fake news Nessuno quando scopri che volare nell'acqua non è un superpotere ma si chiama nuotare Dipende dai punti di vista Quando per la gita di fine anno la prof ti porta a vedere un campo di barbabietre da zucchero E un'industria siderurgica E' bellissimo poter vedere dal vivo armi che prima potevo solo immaginare Eccola qua ragazzi questa è un'industria siderurgica Femmine nelle ore e buche Amo facciamo i compiti No amo io ripasso Maschi durante l'ora buca Giochi da mongas codice Ditemi che mongas lo giocate a scuola Col telefono nelle ore e buche Io chiedo se posso andare in bagno Prof di inglese English motherfucker do you speak it No prof questo è metagaming Io gli sto chiedendo di andare in bagno Se glielo dico in inglese è metagaming E non può farlo Quando sui mongas uccidi qualcuno e poi riporti il corpo Accusando un'altra persona Ma qualcuno dice di averti visto uccidere dalle telecamere Stanno diventando tutti teorici qui Io e il mio frada quando da piccoli installavamo Minecraft da Aptoid Noi passiamo cristo Ma cos'è Aptoid? A suo tene non lo conosco Quando vai al supermercato per comprare un po' di carne Ma al salumer è andata male la giornata Quando tu e tuoi boys state prendendo in giro la prof dicendole che è una vecchia Ma lei vi risponde dicendovi che se non state zitti Non vi dagli omogenizi There's one impostor among us Io l'elementare è che non volevo far copiare il compagno di banco Comics, Smemoranda e Eastpac La trasformazione è completa Io riapro Fortnite dopo circa un anno Nuova mappa Skin che costano quanto un rene BM09, Triyarder, Super Proteggi a caso Collaborazione con Rocket League Io per la disperazione mi sono messo le mani nei capelli L'amico Calvo Ragazzi, i ragazzi non sanno cos'è la genialità Ragazzi Dove fa male? Mal di testa, mal di pancia Quattro taschi in elettrica Lei è la cosa più brutta del mondo Me and the boys in quinta elementare Quando realizziamo che la tana di Winnie the Pooh è una Ma no, no Perché sto ridendo Persona nel film horror Non aprire questa scatola Protagonista Ma se ti dicono di non aprire quella scatola Non aprirla che esce il diavolo È così difficile Basta che mi mostri nelle Non se ne può più Te mi mostri Alla rotta Luca Come i giocatori nei pack di FIFA Con 30 Basta Questo meme review vi sia piaciuto Io vi ricordo che inoltre In live il pomeriggio Noi ci vediamo dalle 13.30 Fino alle 4 Per spaccare i culi alla gente Ai bot su FIFA 21 Con i baggatoni Iscrivetevi al canale Se non l'avete ancora fatto Cliccate sulla campanella Per trasformare questo cane in una chiesa E noi ci vediamo Nel prossimo video Woo Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti